La Polizia Locale di Roma Capitale, in deficit di organico, tenta la Carta dell'Innovazione Tecnologica per ottimizzare la sua presenza sul territorio. Il nuovo strumento, già a disposizione dei cittadini, si chiama IoSegnalo ed è un servizio in rete per comunicare con rapidità incidenti di servizi e violazioni. Allo spazio virtuale si accede passando dal sito di Roma Capitale www.comune.roma.it e accedendo all'area riservata. Per effettuare la prima segnalazione occorre registrarsi lasciando i propri dati, tra cui gli estremi della carta d'identità e il numero di telefono. Dopodiché l'utente accede inserendo il nome identificativo e la password. Una volta riconosciuti dal portale, si clicca sulla sezione Servizi Online. Si inserisce l'indirizzo esatto e si compilano gli spazi, scegliendo dall'elenco la tipologia di segnalazione. Il sistema assegnerà le priorità aggregando i casi simili. Per incidenti stradali o altre emergenze, la comunicazione passa subito alla squadra più vicina. L'elenco delle possibili segnalazioni include le soste vietate, i rumori molesti, i casi di abusivismo, le buche stradali e persino l'apertura di bed and breakfast non autorizzati. Completata la segnalazione, si riceve un numero di riferimento da utilizzare per seguire il percorso della propria richiesta. Al servizio si accede da PC, ma anche col proprio smartphone e si possono allegare foto. Io segnalo è in sperimentazione, agli utenti servirà un po' di tempo per fare pratica col sistema. Se tutto andrà bene, la Polizia di Roma Capitale avrà a disposizione un ottimo strumento di organizzazione del lavoro.